E voilà! Guarda che bel look che stiamo pettinando la signora, eh? Ecco qua! Eh? Mette gli occhiali con me. Mette gli occhiali! Ma che meraviglia! Eh? Nature, la piega clamore. Questo è il colore che abbiamo sfumato oggi. Allora, sta chiaro. Ti piace, no? Molto, molto, molto. Molto naturali. Molto naturali, ben spattuati. Molto rinato, eh? Rinato, bello. Bello, bellissimo. Questa piega clamore che l'abbiamo fatta un po' col vento. Bisogna che c'è il vento fuori. È vero. Che bello, eh? Ma che bello, eh? Ma la bella, la punta, eh? La... La... La sfumatura, guarda. Questa spazzola magnifica che ha delle setole molto naturali, eh? Guarda che bello, che bello momento, eh? Bellissimo. Bello, bello, voglio... Ti piace oggi il colore? Molto, molto, bellissimo. Bello. Eccoci qua. Anni questa piega clamore com'è, eh? Bella. Bella, bella, movimentata, eh? Movimentata sicuramente. Movimentata come il mare, eh? Si deve andare in vacanza. Esatto, sì. Ok, grazie. Grazie, grazie mille.